Ospite della trasmissione ma che domenica in onda su Italia Mia, Alba Palamendi, celebre volto del turnover di Uomini e Donne, ha attaccato la trasmissione di Canale 5 e i suoi protagonisti principali, Giorgio e Gemma. L'ex dama a suo tempo aveva dichiarato pubblicamente di non credere alla loro storia d'amore, ma era stata ripresa da Maria De Filippi in trasmissione. A Italia Mia ha ribadito le sue convinzioni e ha detto, ho sempre avuto i miei dubbi perché lui lo vedo molto attore, in America faceva la comparsa, dice, e lei molto falsetta. Fatti comunque i complimenti a coloro che lavorano in redazione, li ha definiti eccezionali e preparati, la Palamendi ha accusato la trasmissione di fare ascolti puntando sulle liti. Esperienza molto carina, ha sottolineato la donna, ma trovo che in questo programma ci sia estigazione a litigio e non all'amore. Forse il litigio fa più audience, dice, se vedi qualcuno che litiga, ti giri, se vedi invece qualcuno che si fa le coccole, lo dà per scontato. Per cui non ci credo molto, conclude, che possa nascere in quella trasmissione l'amore. Ci ho provato, ammette, in tutto quello che faccio ci credo.